Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri e la Tenenza di Milito di Napoli hanno, nella mattinata odierna, dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e messa al GIP il Tribunale di Napoli Nord, a carico di 5 persone residenti ai comuni di Caivano e Giuliano in Campania, tutte indagate per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento, favoreggiamento ed agevolazione della prostituzione e in concorso con altre 9 persone a vario titolo coinvolte nell'indagine per una pluralità di reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le indagini, iniziate a seguito di una segnalazione pervenuta nell'agosto 2019 e relativa all'esistenza di un'abitazione utilizzata per l'esercizio della prostituzione, sono state condotte anche attraverso attività tecniche di intercettazione audio e video, nonché mediante il modo d'intoraggio delle autovetture in uso agli associati. In tal modo è stato possibile delineare un grave quadro indiziario a carico dei predetti indagati, consentendo di ricostruire l'intera organizzazione criminale dedita allo sfruttamento delle prostitute collocate all'interno di abitazioni situate nelle province di Napoli e Caserta, precisamente nei comuni di Melito in Napoli, Giuliano in Campania, Napoli, Aversa, Orta di Atella, Grecignano di Aversa. I fini dell'associazione sono stati perseguiti agli indagati attraverso una precisa diversificazione dei ruoli. Tra le cinque persone destinatari del provvedimento cautelare figurano in particolare due sorelle, una delle quali con ruolo di promotrice ed organizzatrice dell'associazione. Gli associati gestivano i proventi della prostituzione lasciando alle prostitute solo la quota individuata come alle stesse spettante, quantificata nella misura del 50% o il guadagno complessivo. Le due sorelle coordinavano l'attività degli altri, ognuno con compiti ben precisi, tra i quali quelli finalizzati a raggiungere un maggior numero di clienti mediante pubblicazione di annunci online, quello di offrire supporto tecnico alle prostitute per migliorare le immagini abbinate ai profili presenti nei vari annunci, quello di fornire indicazioni circa le più efficaci modalità di approccio telefonico col cliente in modo da far divenire sempre più assidue le visite dei clienti stessi presso le abitazioni. Ancora uno degli associati curava il periodico spostamento delle prostitute da una casa all'altra e vigilava presso una delle abitazioni per evitare che potessero insorgere problematiche con la clientela. Le prostitute, tutte le nazionalità straniera, venivano collocate agli associati all'interno degli immobili di volta in volta reperiti per essere destinati all'attività illicita ed attrezzati proprio per le esigenze legate al meretricio. A seconda della tipologia di prestazioni richieste della zona di provenienza del cliente, quest'ultimo veniva indirizzato principalmente dalle due sorelle verso l'una o l'altra abitazione. Quando il cliente non conosceva a sufficienza la zona da raggiungere, gli venivano fornite a mezzo telefono dettagliate informazioni utili a consentirgli di raggiungere l'abitazione dove avrebbe dovuto incontrarsi con uno o più donne dedicate alla prostituzione. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari sono state esposte ed eseguite perquisizioni anche presso quattro abitazioni ancora adibite a case di prostituzione, al fine di acquisire ulteriori elementi di prova e porre fine all'attività illicita accertata.